Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Dopo il termine del grande fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno continuato a far parlare di sé. Recentemente, i due sono stati avvistati insieme a Roma, davanti al Colosseo, in una foto che ha rapidamente fatto il giro dei social media. L'immagine li mostra sorridenti e compiaciuti, suggerendo una possibile rinnovata vicinanza tra l'ex attrice e l'ex bidello, nonostante le turbulenze passate nel reality show. Il momento è stato immortalato e condiviso da Beatrice su Instagram, accompagnato dalla frase Remy's Now e dalla melodia di La Dolce Vita, evocando un'atmosfera romantica e sognante. I fanora si interrogano. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.